Ciao ragazzi, si è appena conclusa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri di presentazione a Juventus Bologna, niente di estremamente interessante se non un paio di concetti che andremo a riprendere una domanda in particolare, anzi una e mezza che è stata fatta a Massimiliano Allegri sulla quale voglio concentrarmi principalmente perché comunque è fonte di discussione continua di quello che accade vi dico subito che come avrete visto la Juventus domani scenderà in campo con una maglia speciale, una quarta maglia che può piacere o non piacere sono gusti, a me personalmente non fa troppo impazzire ma sono curioso di vederla indossata domani nella partita e ovviamente dopo il rinnovo di Perin ufficializzato nella giornata di ieri ecco anche il rinnovo di Quadrato ufficializzato nella giornata di oggi soltanto un anno poi vediamo se ci sarà opzione per prolungare questo contratto vedremo anche le cifre quando avremo più dettagli a disposizione comunque Juan Quadrado per l'anno prossimo sarà un giocatore della Juventus e questa è sicuramente una gran bella notizia tra l'altro anche De Sciglio e prossimo rinnovo manca veramente poco probabilmente solo l'annuncio ne parleremo prossimamente Allegri dice arriviamo bene alla gara con il Bologna domani non ci sarà Sinisa Mialovic in banchina purtroppo sappiamo tutti quello che è accaduto gli auguro buona guarigione i nostri avversari stanno bene hanno anche fermato il Milan di recente tra l'altro Milan che doveva vincere assolutamente per cercare di inseguire il sogno scudetto a noi mancano punti per consolidare il quarto posto poi qualche analisi di formazione dice Bonucci sta bene c'è un ballottaggio devo scegliere tra lui Chiellini io immagino che sia dato per scontato il fatto che De Litt sarà titolare appunto il ballottaggio tra i due campioni d'Europa perché mercoledì c'è il ritorno di semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina e quindi devo capire chi gioca tra uno e quell'altro tra l'altro mi fa ridere perché qualche settimana fa lo stesso Massimiliano Allegri aveva detto non mi concentro sulle partite successive adesso c'è questa mi concentro solo su questa invece oggi va a fare il parallelo ma naturale infatti era l'epoca che avevamo anche detto nella fase della conferenza che era assurdo perché ovvio c'è un calendario da seguire la prossima settimana giochiamo ogni tre giorni adesso e quindi per forza di cose dobbiamo capire chi va in campo oppure no Allegri dice abbiamo sei partite di campionato le ultime due gare sono toste contro Rasta e Fiorentina Fiorentina che tra l'altro ha anche un buon calendario dobbiamo fare attenzione servono probabilmente almeno dieci punti per entrare in Champions League io ho fatto un video mi pare lunedì proprio sul discorso dei punti di quelli che sono i punti delle ultime sei giornate per quanto mi riguarda la Juventus potrebbe fare almeno dodici punti io dico almeno Allegri dice che ne servono almeno dieci ovviamente lui ragiona per obiettivo minimo che è il quarto posto quindi l'ingresso in Champions secondo me col calendario che abbiamo possiamo veramente fare almeno dodici punti io dico proprio al minimo almeno dodici punti sono curioso di sapere la vostra opinione che non è esattamente quello che sta dicendo Massimiliano Allegri secondo voi la Juventus almeno dando un'occhiata al calendario delle ultime partite quanti punti riuscirà a fare e quanti ne serviranno per andare in Champions ecco io qua invece non lo so non voglio mettere bocca Allegri dice i problemi questo è un discorso un po' generale non vengono fuori solo quando gli italiani vengono eliminate però o quando l'Italia non va al mondiale però i problemi ci sono sempre spesso mettiamo la testa sotto la sabbia perché in Italia siamo abituati a fare così c'è una differenza incredibile di introiti con gli altri campionati tipo quello inglese allora qua scopriamo l'acqua calda nel senso che che la Premier League sia più ricca c'è poco da fare tra l'altro di recente ascoltando anche un video di Lello col Pogobbo gli ho commentato nel calcio girano troppi soldi perché effettivamente nel calcio girano troppi soldi nel calcio italiano nonostante questo ci sono le briciole e parliamo comunque di tantissimi soldi lo stesso perché nel calcio italiano girano una marea di soldi per calcio italiano non intendo solo la serie A in generale il movimento calcio in Italia girano tantissimi soldi eppure noi abbiamo le briciole rispetto al resto quindi su questo assolutamente d'accordo ma ribadisco non lo scopriamo certo oggi sul resto non ho capito perché sembra quasi un discorso generazionale e allora chiedo nel discorso generazionale questa poca voglia proprio generale generale in Italia di lanciare i giovani nelle squadre importanti perché io lo ripeterò per sempre che il Sassuolo abbia un progetto basato sull'autofinanziarsi nel far crescere i giovani e lanciare i giovani è qualcosa di straordinario e di bellissimo ma finché lo fanno squadre come il Sassuolo come l'Udinese squadre che hanno la necessità di farlo per vendere monetizzare creare plusvalenza e ovviamente ripartire con questo progetto senza ambizione sportiva se non quella di rimanere nella massima serie noi andremo avanti perché se nelle prime quattro classificate in Serie A Juventus Milan Inter non c'è una singola squadra non ce n'è una che lancia giovani del vivaio allora diventa difficile che non significa non far giocare i giovani perché prendo un esempio l'Inter fa giocare Barrella e Bastoni il Milan ne fa giocare tantissimi la Juventus fa giocare De Ligt Vlaovic chi più ne ha più ne metta il Napoli stesso fa giocare Ossiman sì ma sono tutti giocatori che sono andati sono stati acquistati sul mercato tutti giocatori pagati a peso d'oro perché erano già pronti e che hanno giocato in altre squadre che avevano la possibilità di farli crescere perché non avevano chissà quale tipo di ambizione magari discorso diverso per De Ligt che però viene da un altro campionato io sono sempre di quella se non cambieremo il discorso generale della vetta delle prime squadre e quindi che i giovani non debbano essere pagati a peso d'oro ma tu possa effettivamente crescerli internamente alla squadra almeno uno o due io parlo di uno o due ragazzi ogni anno che deva venire fuori che possano essere inseriti nelle rotazioni per poi essere pronti ad essere titolari nel paio di due stagioni all'interno della stessa squadra che deve essere una squadra dei piani alti della serie A allora non ne veremo fuori non ne veremo fuori e questo aiuterebbe anche a colmare quella differenza economica appunto con la Premier League eppure no e questo non è un discorso sulla Juve è proprio un discorso generale sulle squadre che puntano ai piani altissimi della classifica in serie A questa è una cosa che rimane purtroppo rimane e poi si traduce come potete vedere nei due anni che l'Italia comunque non va ai mondiali e nell'estate incredibile in cui vinciamo l'europeo sì però allora qual è la verità quella che per due anni non va al mondiale o quella che vince l'europeo forse un mix tra tutte le cose beh quando sei in forma per un mese secondo me l'europeo l'abbiamo strameritato questo mese è stato quest'anno un mese incredibile dove eravamo tutti forse al 200% neanche al 100% anche e soprattutto per un discorso mentale non solo fisico o tecnico al di là di questo andiamo avanti Allegri dice momentaneamente siamo soddisfatti perché l'obiettivo stagionale era il quarto posto ma ad oggi non l'abbiamo ancora raggiunto poi Allegri in realtà si lascia andare e dice la parola magica minimo perché non posso assolutamente pensare che l'obiettivo stagionale della Juventus fosse il quarto posto dall'inizio che sia obiettivo minimo ci credo che sia obiettivo stagionale no e sarebbe un problema credere questo sarebbe un problema che questo si dimostrasse poi verità se questa estate l'avventus chiama Allegri richiede viene ad allenare la Juve arriva quarto questo è l'obiettivo è grave perché l'anno scorso andrà a pirlo quarto ci è arrivato allora la domanda è perché cambiarlo deve essere obiettivo minimo e non basarsi solo su queste cose e altre cose che comunque analizzeremo in prossimi video perché se no potremo starci a parlare per anni Allegri dice poi sono dispiaciuto anche dell'uscita dalla Champions non sono dispiaciuto anche per aver perso la Supercoppa purtroppo ci sono anni dove non riesci a portare trofei a casa e dispiace attenzione c'è la Coppa Italia io un trofeo almeno vorrei portare uno sarebbe assolutamente male e Allegri poi dice la parola magica ed è questo l'interessante poi bisogna capire se hai messo le basi per il futuro quest'anno abbiamo iniziato un percorso abbiamo fatto buone cose ma non si può ancora giudicare l'annata e allora gli chiedono ma quali sono queste basi queste cose che abbiamo messo di buono quest'anno Allegri dice la squadra è cresciuta sia proprio come squadra sia come singoli giocatori io qui ho un po' da ridire perché a livello di singoli giocatori sì qualcosa c'è stato per dire secondo me Matthijs De Ligt sta facendo la sua migliore stagione in bianco-nero nelle tre disputate dall'altra parte c'è un Federico Chiesa che finché c'è stato non era stato performante come invece l'annata prima poi ci sono giocatori come Locatelli per dire che la prima stagione Juve sta facendo molto bene però io non vedo grandi crescite singole in generale un altro che mi sta piacendo è Luca Pellegrini è la sua prima stagione all'eventus però ribadisco rispetto all'anno scorso la base di quelli che c'erano l'anno scorso forse il solo di Bala è cresciuto ma perché l'anno scorso è rimasto fuori è appunto De Ligt che sta facendo un'annata strepitosa forse possiamo parlare di Chiesny però non ci sono dei grandi profili singoli che c'erano l'anno scorso e che ci sono quest'anno che sono migliorati sensibilmente magari sono migliorati quelli che non c'erano l'anno scorso e che a inizio anno sembravano una cosa e che adesso sono qualcos'altro in generale faccio un parallelo con l'anno scorso invece non vedo chissà quale crescita individuale dei giocatori vedo invece una crescita mentale di squadra ma c'è da sottolineare una cosa molto molto importante Allegri dice siamo nel momento cruciale della stagione dobbiamo raggiungere l'obiettivo minimo del quarto posto io qua apro un mondo perché è vero che l'obiettivo minimo è il quarto posto però io ribadisco che intanto bisogna terminare la stagione per capire come questa squadra terminava questa stagione perché l'impressione di essere più squadre in questo momento c'è ma non è sufficiente perché anche compirlo l'anno scorso a questo punto della stagione compirlo l'avan terzi l'anno scorso siamo arrivati all'ultima giornata quinti fino a che il Napoli non si è suicidato quindi calma perché esserci adesso a questo punto della stagione non vuol dire niente bisogna anche terminarla in un certo modo per poi dare giudizi alla fine perché ad oggi non sarebbero troppo positivi lo dico proprio tranquillamente non ho niente da rimangiarmi ma ho già detto tante di quelle volte che purtroppo ad oggi l'annata in Serie A secondo me è mediocre che non penso che sia un shock per nessuno e io aggiungo che questa squadra dovrebbe migliorare di più ancora una volta lo ripeto a livello mentale perché per due tre anni consecutivi nel momento clou della stagione ci sono tremate le gambine e allora non può essere sempre un problema tecnico se con tre allenatori diversi arrivi sempre a questo punto della stagione in cui ti tremano le gambe o verso il finale della stagione in cui ti tremano le gambe e con Sarri è andata bene perché non siamo andati proprio benissimo sul finale di stagione gli altri sono andati peggio lì era un anno particolare c'era il covid quello che volete compirlo l'anno scorso ribadisco meno male che il Napoli l'ultima giornata decide di non vincere in casa con l'Elas Verona quest'anno siamo ancora una volta padroni del nostro destino cerchiamo per cortesia di concludere una stagione nel modo giusto perché non è possibile arrivare sempre alla fine dell'anno ed essere sempre alla condizione di dire se sbagliamo inizia a diventare difficile no è ora di iniziare a dire che bisogna ricominciare ad avere consapevolezza che sia la Juventus e che se c'è la partita decisiva in Champions non si deve sbagliare c'è la partita decisiva in campionato con l'Inter non si deve sbagliare c'è la partita decisiva in Coppa Italia con la Fiorentina non si deve sbagliare c'è la finale di Supercoppa non si deve sbagliare poi magari ogni tanto capita che la sbagli ma se inizia a sbagliarle sempre siamo partiti male siamo stati a inseguire tutto l'anno è andata bene ancora una volta che gli altri hanno mollato perfetto adesso basta adesso dipende da noi perché se no torniamo sempre indietro di un anno invece che andare avanti andiamo indietro come i gamberi e allora dopo questa cosa non va per niente bene ci vuole un po' di più livello mentale poi quando l'ho detto ha rinnovato sta bene dovrebbe essere a disposizione però ho solo due centrocampisti quindi se dovrò se vorrò giocare a tre dovrò adattare qualcuno ci sono soltanto Rabio e Zaccaria vediamo Miretti se avrà recuperato da qualche problemino fisico se riuscirà ad andare almeno in panchina non ho ancora deciso la formazione Allegri dice su Di Bala Cagliari sono stato infortunato perché stavo per sostituirlo Paolo sta bene dopo un'annata travagliata però dobbiamo fare punti come squadra per migliorare la nostra posizione non soltanto per Paolo e comunque per il finale di stagione in cui Paolo ci sta per salutare tra l'altro qua apro una piccola parentesi sto preparando un video speciale su Paolo Di Bala ve lo farò avere appena sarà pronto le sconfitte in casa sono dati di fatto sul numero c'è poco da fare sono state ben 5 in questa stagione sono sconfitte che incidono sia in Champions sia in campionato è il discorso che vi ho fatto adesso se nel momento decisivo della stagione poi le stecchi hai steccato in casa con l'Inter hai steccato in casa col Villareal adesso c'è la Fiorentina in Coppa Italia mercoledì stecchiamo ancora in casa anche in Coppa Italia andiamo su tre competizioni a rovinarci tre competizioni in casa no grazie e ora è di fare questo questo passo in avanti nella testa perché finché non ci entra nella testa che siamo la Juventus ci va da nessuna parte sono felice di essere la Juventus sono felice di non aver accettato comunque Real Madrid nonostante quello che abbiamo visto in queste settimane avevo voglia di lavorare ancora qui e di costruire qualcosa di importante qui sono molto fortunato faccio un bel lavoro e voglio togliermi ancora più soddisfazioni me ne sono già tolte tante ce ne sono altre che voglio togliermi insieme al mio staff Allegri non si pente di aver scelto la Juve è ovvio che non avrebbe potuto rispondere in altro modo in conferenza stampa si dice carico si dice fortunato si dice voglioso di questi quattro anni di costruire qualcosa di importante con la Juve come disse Nedved qualche anno fa chi vivrà vedrà perché ad oggi è ancora un po' difficile per vedere il futuro Ken ha fatto buone cose in questo momento però gli altri stanno facendo meglio rimane a disposizione ma gli altri stanno facendo meglio e lo sappiamo io rimango dell'idea che ad oggi Moise Ken per la Juventus sia non dico un problema perché forse sarebbe una parola forte però un argomento di dibattito almeno perché perché sì è inutile spiegarlo lo sappiamo tutti Allegri dice spero che Vlaovic possa diventare capocannoniere della Serie A perché questo ci aiuterebbe a consolidare la nostra posizione Juve domani gioca titolare dal primo minuto quindi questa è già un'informazione e poi gli chiedono di Nedved dice Nedved ha fatto un'esternazione classica di guarda la partita in tribuna non c'è nessun problema con Pavel ci sono i presupposti per finire l'annata nel modo migliore e per iniziare la prossima ancora meglio e questa è la mia grande speranza è il mio è il mio grande urlo al cielo perché davvero noi in questa stagione siamo stati nemici numero uno di noi stessi è vero che c'è stata una crescita perché negare rispetto a quello che c'è stato inizio d'anno è da folli e abbiamo anticipato il problema Ronaldo perché il problema tra virgolette ma il problema di arrivare a fine campionato con Cristiano Ronaldo e quindi iniziare una stagione senza Cristiano Ronaldo lo dobbiamo fare l'anno prossimo l'abbiamo anticipato di un anno le scorie del posto Ronaldo ce le siamo già giocate per l'anno prossimo non ci sono giustificazioni non ci sono giustificazioni perché nessuno ha il valore sull'impatto il peso specifico di Cristiano Ronaldo abbiamo fatto anche un'andata intera senza il centra ma ora ci abbiamo pure quello possiamo migliorare alla grande ma ora questa rosa qui per quelli che sono i valori oggi della serie A va benissimo poi è ovvio che se vogliamo migliorare anche in Europa servirà qualcosa di più non so nemmeno se già dal prossimo anno non voglio vendervi sogni ma con questa rosa qui non ci sono scuse per terminare la serie A nel migliore dei modi e io ribadisco vincerle quante più possibili perché il calendario è abbordabile le ultime due sono un po' più complicate ma questa Juve può assolutamente battere sia la Fiorentina che la Lazio vincere provare a vincere la Coppa Italia dove in finale sarà magari difficile tanto portiamoci avanti anche in semifinale con la Fiorentina perché ancora una volta ribadisco la Fiorentina è alla tua portata alla grande se poi non riesci a arrivare nelle prime quattro o non riesci a superarne almeno una che magari molla o non riesci a arrivare in finale di Coppa Italia non riesci a vincere la Coppa Italia è l'ennesimo boccone amaro da mandare giù ad oggi questa stagione è insipida completamente insipida dove sì ci sono stati dei miglioramenti inizialmente ma quei miglioramenti ci sono stati perché abbiamo iniziato in maniera tragica perché si era creata una situazione tragica all'interno della Juventus e quindi quello che chiede è un finale in crescita ce lo meritiamo ne abbiamo bisogno